L'isola dei famosi 2018, scatta la protesta, basta Eva, hai stufato? Gossip, isola dei famosi, scatta la protesta sui social, Eva sottoaccusa. L'isola dei famosi 2018 sta monopolizzando tutti i programmi televisivi di questi ultimi giorni. In verità fa più discutere quello che sta succedendo in Italia. I naufraghi rimasti in Honduras non sono ancora riusciti, almeno per il momento, a catalizzare l'attenzione su di loro. Isola dei famosi, sui social scoppia la protesta, basta Eva, hai stufato? In questi giorni stiamo assistendo davvero ad una cosa assurda. Avenger si fa paladina della giustizia, quando a molti invece è sembrato solo un brutto tentativo per far salvarsi, sperando in un'espulsione al volo per Francesco Monte. queste sono le altre domande, che si leggono più spesso sui principali social network. Avenger, che solleva un super polverone in diretta e poi per giorni intasa i programmi televisivi con le sue accuse. Eva che rincara la dose ed afferma che ha rischiato grosso in Honduras. Va bene, ma perché non ha denunciato subito l'accaduto se si credeva così a rischio? E perché durante la prima puntata non ha detto nulla? Perché ha aspettato la seconda puntata? Queste sono le domande, che si stanno facendo moltissimi fan dell'isola dei famosi 2018. Ma non è tutto, Eva nelle sue ultime dichiarazioni ha detto che Francesco Monte ha sbagliato e che deve chiedere scusa a lei, all'Italia e alla produzione dell'isola. Ma scusa Eva, se portare la droga in tv lo reputi così grave, perché continui a girovagare per studi televisivi parlando di droga? Oltretutto anche in orario pomeridiano. E il moige non dice nulla? Non interviene? Parlare di droga in tv in orario pomeridiano è meno grave di farlo in prima serata? Eva può parlare di droga e spinelli e Francesco Monte non può fare in privato cosa vuole? Ci spacciate per reality show dei programmi come Il grande fratello e l'isola dei famosi e poi squalificate o costringete al ritiro i concorrenti, che si comportano in tv come nella realtà? Non chiamiamoli più reality show a questo punto. Eva è malata di protagonismo e sta solo sfruttando un ipotetico errorino di Francesco per girarsi tutti le poltrone dei programmi tv. A tutto questo, molti telespettatori, che seguono l'isola dei famosi 2018 rispondono con un basta Eva, hai stufato. La vera vittima è Francesco Monte. La vera vittima è stata la vera vittima.